Allora, nel giorno dell'unità d'Italia, nel giorno della Costituzione, dell'inno, della bandiera, io voglio dire rivendicate senza sconti le vostre istanze nei confronti del governo. A volte saremo d'accordo, riusciremo a fare cose insieme, a volte non saremo d'accordo, ma io vi garantisco che quelle istanze troveranno sempre un ascolto serio e privo di pregiudizi. Perché questo è l'impegno che mi sono presa nei confronti di tutti gli italiani ed è l'impegno, uno dei tanti, che intendo portare avanti. Grazie.